Ciao, sono Roberto Brunetti, mi occupo anche di teatro, di televisione, insomma il lavoro quando c'è bisogna prenderlo al volo, come si dice, anche perché sono momenti purtroppo duri di questo spettacolo, va sempre un po' scarnito. Conosco la Sicilia, Catania, Palermo, Messina, perché sono venuto in vacanza, ho fatto vacanze. Come esperienza di lavoro, sì, è la prima volta che lavoro a Catania, come noi del sud, perché io sono da Roma, da Roma in giù siamo tutti ben ospitali. La Salomedia è molto divertente, molto allegra, ha un sapore di mare rivisitato negli anni 60, molto divertente, carina, graziosa, non volgare. Nel 2012 andrò in tournée con il teatro, con una commedia che si chiama Ficche giudici e non ci separi e ci sono delle proposte che noi, sai, come superstizione di cosa, diciamo che fino a che non firmiamo non ne possiamo parlare, però ci sono dei progetti che si stanno muovendo. Baci salati, vi aspettiamo al cinema. Baci salati, vi aspettiamo al cinema.